Con lo spettacolo teatrale e non ci lasceremo mai della compagnia I Canaglioni, uno spettacolo firmato da Alfredo Perciaccante e Franco Milani, si conclude la terza stagione teatrale amatoriale messa in gamba dall'amministrazione comunale della città di Cassano, guidata dal sindaco Gianni Papassa, qui abbiamo l'assessore Alessandra Oriolo, delegata anche al teatro. Possiamo tirare anche un po' le conclusioni di questa stagione, molto positiva per la partecipazione e per l'interesse che ha destato. Assolutamente, è stato comunque un grande successo perché tutte le serate della stagione amatoriale sono state comunque gradite, il pubblico ha gradito questa stagione e sono veramente contenta perché è stato registrato il tutto esaurito per tutte le serate. Siamo all'ultimo spettacolo, all'ultima compagnia teatrale che è il cash di Via Figurella, i Canaglioni anzi, che questa sera metteranno in scena una commedia brillante, non ci lasceremo mai. È l'ultima della stagione, diciamo tra virgolette, invernale primaverile perché le stesse compagnie ripeteranno la stagione in estiva e quindi tra un mesetto circa, un mesetto e mezzo, si esibiranno comunque sui palcoscenici dei marini ai Sibari, dei laghi di Sibari e faremo anche la stagione amatoriale estiva per dare la possibilità ai turisti che vengono fuori di vedere i nostri prodotti, quello che noi riusciamo a fare nel nostro territorio, il bello di Cassano. Sì, possiamo sottolineare questo proliferare di compagnie a Cassano che poi fanno in effetti socializzazione ed è quello che si vuole perché manca un po' di socializzazione in questo paese e poi affrontano tematiche che sono di interesse generale. Io vorrei sottolineare una cosa, siamo entrati in teatro in pieno inverno, faceva freddo, concludiamo con un caldo torrido, dicendo subito che è stato tutto un crescente di successo. L'amministrazione comunale per il tramite dell'assessore Riolo che ringrazio, così come ringrazio l'intera giunta che poi ha approvato i programmi, le proposte che l'assessore ha portato al collettivo. Credo che abbia lavorato per far sì che attraverso il teatro ci fosse un rilancio culturale del nostro comune. Alla stagione teatrale, diciamo, normale, se così possiamo dire, abbiamo associato quella lirica e subito dopo quella amatoriale. Questa sera si conclude questo ciclo che poi sarà ripreso tra qualche settimana, diciamo in piena attività estiva. E' un successo. Poi il fatto che si espongono personaggi locali con compagnie, con associazioni locali è un fatto assolutamente positivo, che significa che c'è gente di Cassano che fa teatro, attraverso il teatro lancia anche un messaggio, che sono alcuni temi, come hai detto, molto molto importanti, ma soprattutto manda un messaggio di unità, perché se alcune persone che lavorano professionalmente in maniera diversa l'uno dall'altro, che hanno interessi culturali anche diversi, poi si mettono insieme e raggiungono un obiettivo che è di portare in scena una commedia, significa che tutto questo è importante, è importante chi ha scritto la commedia, è importante chi tiene insieme il gruppo e soprattutto queste cose fanno capire a chi di dovere, che poi esiste una bella Cassano, una Cassano che vuole fare teatro, che vuole fare cultura. Io di questo non posso che essere fiero, felice e dire anche che facendo anche un bilancio, un po' di un anno di attività, che l'obiettivo che ci eravamo prefissati durante la campagna elettorale, quando abbiamo proposto, oltre al solito normale programma, anche un programma più completo, più importante dal punto di vista culturale e teatrale, ci stiamo riuscendo, perché una cosa che mi è piaciuta tanto, le cose che hanno appena trascorso, di attività amministrative, nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato, che stiamo continuando ad affrontare, forse non stiamo parlando sufficientemente, proprio perché non vogliamo disturbare il cittadino, è che c'è stato un rilancio culturale dell'iniziativa del nostro comune, forte, importante, così come c'è stato un rilancio sociale. Accanto a questi due temi che ci interessano tanto, poi ci sono state tante altre attività nella vita amministrativa, che al momento opportuno citeremo, porteremo a conoscenza della pubblica comunione, quindi un grazie a coloro i quali si sono impegnati, continueremo su questa strada, perché è una strada che sta garantendo successo, che è apprezzata al cittadino e noi vogliamo, insieme al cittadino, contribuire a migliorare Cassano. Assessore Oriolo, quest'anno un'altra novità nelle novità, quella di allargare un po' il raggio di azione anche alle compagnie che venivano da fuori Cassano. Sì, è stata una bella risposta da parte di alcune compagnie, abbiamo dovuto anche fare una cernita perché non potevamo mettere in scena tante compagnie e tanti spettacoli, quindi le richieste da parte di comuni limitrofi sono state tantissime, noi abbiamo scelto soltanto due, una che ci legava con un patto di amicizia con la città di Faggiano, con il paese di Faggiano, il patto di amicizia fatto a dicembre per il presepe, il presepe più bello d'Italia e l'altro con la città vicina di Rossano, con la compagnia Contatto, che è stata molto gradita, sono stati molto graditi i due spettacoli, ma il teatro non finisce qui, è quello con cui sto discutendo, insomma, con le compagnie teatrali, di continuare il progetto di rendere comunque Cassano una città che fa teatro, che sa fare teatro, in modo che, insomma, chi viene da fuori e chi ci guarda da fuori può anche pensare che a Cassano si faccia teatro e quindi perché no lanciare dei progetti che possono, non lo so, una scuola di teatro, la scuola di teatro a Cassano, insomma, diventerebbe comunque un bel progetto, la lancio così, dobbiamo parlarne con le compagnie teatrali, dobbiamo parlare con il sindaco, con l'aggiunta, ma il sindaco è sempre disponibile a tutto ciò che riguarda la cultura e quindi sicuramente porteremo avanti questo progetto, sicuramente faremo parlare di Cassano e il desiderio più grande, insomma, che la gente che viene da fuori inizia a conoscere Cassano come una città in cui si fa teatro e si fa il bel teatro. Una città viva e attiva. Sindaco, non possiamo concludere se non con un ricordo, un ricordo di una persona che ci ha lasciato da poco, che ha fatto tanto per il teatro amatoriale, soprattutto a Cassano, il professor Carmine Concece, a cui è stata dedicata anche la stagione. Una grande personalità morale, innanzitutto, poi professionale e anche sociale, che ci ha portato a teatro scrivendo di alcuni temi che hanno riguardato la vita dei Cassanesi negli anni del dopoguerra. Purtroppo questa persona ci ha lasciato in maniera prematura, abbiamo dedicato la stagione teatrale amatoriale a lui e credo che l'amministrazione comunale debba trovare altro modo per meglio ricordarlo. Io vorrei approfittare della circostanza, non per scavalcare l'assessore, ma perché lo voglio fare, ci tengo tanto, lo voglio fare io. Giorno 21, è il terzo anniversario della visita di Papa Francesco a Cassano, subito dopo la visita, in una conferenza stampa e più collochi con gli organi di informazione, io dissi che ogni anno noi troveremo in modo come ricordare la visita di Papa Francesco, perché è stato un evento storico, eccezionale, morale, religioso, civile, una cosa importantissima, riuscitissima, per la cui organizzazione abbiamo ricevuto i complimenti da parte di tutti, da ogni parte del paese. giorno 21 giugno, quindi, alle ore 21, 20 e 30, alle Terme Sibarite, ci sarà la commedia di Vincenzo Ziccarelli, Francesco R., che tratta una parte della vita di San Francesco di Paola con la regia di Adriana Tomano. Io invito i castanesi ad essere presenti, perché io e l'assessore abbiamo avuto modo di vedere la commedia e, avendo la vista, abbiamo detto che bisogna farla anche a Cassano. L'ingresso è gratuito e quindi insieme, per ricordare la vista di Papa Francesco, ma anche per, come dire, far sì che quei valori di San Francesco di Paola possano interessare, possono farci camminare come uomini e donne verso il prossimo e verso l'esercizionamento del bene comune.